oh ciao ragazzi benvenuti allora oggi sono le otto e mezzo questo è il terzo giorno qui a lucca questa mattina non andremo subito a lucca comics ma faremo un giro prima a pisa quindi vedrete anche un po di arte un po di belle cose quindi se non volete vedere queste cose saltate come dicevo saltate pure il video pertanto vedete solo cose storte storta interno storto altro interno storto storto con luce storto dal basso e ragazzi siamo finiti dentro la torre di pisa però vedremo quanto ci metteremo a salire tutti i gallini che sono tutti consumati e c'è anche rischio di scivolare spaccandosi l'osso di capo con l'olio grazie a tutti grazie a tutti un angelo caduto dal cielo e si è spaccato proprio tutto grazie a tutti 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 qui ci spaccheranno le orecchie non so quanto sia intelligente stare qui in mezzo vero? io mi vado a sedere dici? io volevo provare a lebbrezza pensavo molto peggio devo rifarlo all'indietro quindi se non volete essere ripresi dovete starmi indietro va bene ci sta ci sta basta farlo tutto appoggiato al muro vedi come si consuma se non cadiamo andiamo piano non cadete perché io sto all'ultima allora cerchiamo di non cadere vabbè se quello cade è fatalità perché facciamo la ricerca di marchi paledetti della torre marchi di assassin's creed se io voglio trovare il marchio di piazza di teatro che vi avete messo lo stand di star wars non c'è una visione assoluta non c'è niente ubisoft con la tua classe non importa devo prendere un altro concorso down please down da una strana o non c'è niente non c'è niente non c'è niente non c'è niente vadoo proprio di scena vedete vedi vadoo warrior è sempre con voi diciamoci la verità che ha fatto il progetto si era anche fermata la terza a te gli dicevano non c'è un bagno non c'è un bagno non c'è un bagno lo strumento dell'epoca che hanno usato ed è bellissimo cioè questo qua ha quasi mille anni fatto tutto in legno giallo bellissimo però questa torre questa torre è veramente un problema c'è un problema gravissimo l'umidità non si può vedere non puoi fare una torre così e poi c'è l'umidità ma non si può l'umidità l'umidità la parte fa anche bene io dico poi ma voglio dire una fottuta bolla non ce l'avevano all'epoca che è tutto storto tutto tutto pure gli edifici nuovi tutti storti figa però non è possibile anche i souvenir storti cazzo notate cioè oltre a essere una città tutti distorti vogliono raddrizzarci facendoci pagare anche il cesso ma io cazzo non vado a pisciarli dentro piscio qua piuttosto cazzo cazzo fottuti stronzi ecco cosa sono fottuti stronzi avete capito bene perché in realtà ci sono anche dei bagni che sono stati chiusi transennati però gli altri funzionano devi pagare 50 centesimi nel culo anche le bottiglie storte come si fa ma ce la fanno e niente qua ho finito la canzone porca di quella puttana c'è volevo fare questa breve recensione su Pisa cioè praticamente allora già il fatto tu paghi 18 euro per visitare una fottuta torre storta che per carità sarà anche una delle sette meraviglie del mondo e non immagino le altre però voglio dire è storta non c'è il tetto quindi ci piove dentro e il problema più grande della torre di Pisa è uno solo l'umidità cioè umidità ovunque scalini storti che rischi di cadere perché è palese figa cadi e boh è 18 euro e poi ti dicono ma 18 euro ma non visiti solo una torre storta cioè c'è anche il duomo è una primaziale e dici cazzo il duomo allora vai lì allora c'è una messa ogni ora e dura un'ora quindi praticamente c'è messa perenne e quando c'è una messa tu non puoi visitare un cazzo perché c'è praticamente un riquadro di un cazzo di metri che la devi vedere da 200 metri di distanza le cose belle perché le cose belle possono tutto al fondo dove c'è il prete che dice quelle sue cose lì e quindi boh allora tu dici figa fammi pagare 18 euro ma in più vedi anche cioè vedi il battistero e poi se vuoi vedere il duomo cacci altri 5 euro per vedere un cazzo ma almeno li cacci a parte no e poi sto coglione che ha fatto la torre di Pisa che ha fatto solo tre piani perché poi non è che si è rotto il cazzo però ha capito che ha fatto la cappella e allora cioè un altro dopo ci ha ripensato ha detto beh però se noi facciamo così così cosa potremmo anche farlo e l'hanno rifata vabbè ma lì è un'altra storia poi sarà un capitolo a parte forse e il battistero era senza tetto cioè ma tu puoi fare un battistero barro mi sta facendo pure venire il coso qua il gozzo storto pure quello e il battistero senza tetto che ci pioveva dentro quindi allora avevano problemi che la fontana per battezzano dovevano sfruttare ogni 3x2 perché era un macello e e poi quindi hanno dovuto mettergli le pezze al culo di nuovo e fare il tetto a parte cioè soldi sprecati soldi sprecati boh basta pisa pisa adesso ho capito perché dicono pisa merda e il bagno niente il bagno fidonna cioè io voglio dire hai fatto un bagno a forma di torre di pisa che ci pisci dentro mi fai pagare 50 centesimi mi va bene ma era un cesso un cesso e tu dovevi pagare per pisciare per pisciare me la sto tenendo basta comunque era tutto molto pittoresso un po' non lo so dire che era tutto molto pittoresso non mi fate più ridere perché mi sto pisciando sotto perché non ho potuto pisciare in testa quello che ha fatto la torre di pisa come si chiama? non lo so Sergio 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 ma è il fiume di Lucca è il fiume di Lucca è il fiume di Lucca Sergio che ti sanno? ti sanno? Pisano era Luca Pisano anche si chiamava Pisano perché era di di stanza era pisamerda guarda 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 che curve di merda tutto a curve qua cazzo